rete 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 che casicato mata mister mata scusate scusate ma da questa postazione non vedo bene il raddoppio della virtus castelfrentano ad opera del numero 7 già leonardo emanuele meglio conosciuto come lele 2 a 0 ci troviamo nei primi dieci minuti del secondo tempo quasi al sant'anna di chieti adesso mister si appresta ad effettuare la prima cioè la seconda sostituzione per noi prima uscito federico tucci che aveva un risentimento muscolare adesso si accince ad entrare alessandro lamonti che si sta riscaldando 2 a 0 a questo momento qua al sant'anna di chieti 4 a 0